Partito. Azione! Vuoi fare davvero qualcosa di importante che conti per chi? Per chi? Avevi una carriera, papà, prima di cominciare a girare il terzo film da supereroe? Prima che la gente si dimenticasse chi c'era sotto quel costume da uccello? Stai facendo uno spettacolo basato su un libro scritto 60 anni fa per dei vecchi pieni di soldi la cui unica preoccupazione è dove andare a mangiare quando sarà finito. E non lo fai per l'arte, papà, diciamocelo. Lo fai per sentirti irrilevante, come un tempo. Sai che ti dico? Là fuori c'è un mondo intero fatto di persone che tentano ogni giorno di sentirsi irrilevante. E tu ti comporti come se non esistesse. Succede una cosa in un mondo che tu ignori. Un mondo che tra l'altro ti ha già dimenticato. Insomma, chi cazzo sei? O di Twitter, o di LeBlogger. Non hai una pagina Facebook. Sei tu l'unico in cui non esiste. E lo fai soltanto perché hai paura di sentirti rilevante. Come tutti noi. Sai che ti dico? È così. Non sei importante. Non è importante. Facci l'abitudine. Non è importante. E lo fai soltanto perché hai paura di sentirti. E lo fai soltanto perché hai paura di sentirti, ti sai mangiare.